Com'è questa cosa? Prego Adesso a lei non ci vede, è vero che esiste la cicala femmina e la cicala macchina? E da che cosa si distingue la cicala femmina? Da quello macchina? Ma? In testo o? No, questi, così, ma... Da che cosa? Non lo so Le uova ho già pure E quella rossa che cos'è secondo te? E quella che è all'interno? All'interno è la cicala femmina, quella parte rossa, così Guardate i carini, Vito, inquadrano con il tuo piatto Non capirai mai con te Unghi Che li salto in faccia Che li salto in faccia Che li salto in faccia Grazie.